salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video del gruppo 1881 oggi parliamo di quelli che sono diciamo i marchi o sottomarchi seiko sub brand vengono definiti appunto pulser alba ed altri iniziamo iniziamo con con pulser perché ha una storia interessante pulsa non è un marchio istituito da seiko è un marchio che venne creato da emilton nel 1970 fu chiamato pulser perché nel 67 erano state scoperte appunto le stelle pulser le stelle pulser sono delle appunto delle stelle che sono sostanzialmente collassate ecco sono pulser è il nucleo di questa stella collassata da lì poi emilton ebbe l'idea di utilizzare questo nome per orologi a led quarzi a led sono tra l'altro i primi tra i primissimi quarzi a led quelli di emilton e nel 1978 secco acquista questa questo marchio lo acquista lo fa lo fa suo lo compra siamo nella fase di grande industrializzazione dei quarzi siamo in quella fase che noi possiamo definire rivoluzione del quarzo cioè secco dopo il 75 come dico spesso comincia a industrializzare la produzione dei moduli al quarzo e quindi questo da una spinta incredibile alla alla al mercato perché il mercato viene veramente invaso piano piano da orologi con questi moduli che in questi anni ancora erano molto buoni e con una diciamo componente artigianale ancora rilevante pian piano poi diventeranno sempre più industrializzati secco in questa fase si accorge che per vendere sempre di più e soprattutto per diversificare i vari mercati magari anche la tipologia di destinatari quindi di clientele clientela deve creare dei brand specifici crea pulsa soprattutto per il mercato internazionale quindi per il mercato internazionale quindi per l'export europa stati uniti anche australia non mercato interno perché per il mercato interno sempre nel 78 andrà a creare alba come vedremo comunque con pulsar secco realizzerà soprattutto orologi field watch anche diver ultimamente ci sono anche dei diver in collezione cioè nei primi anni 2000 hanno cominciato a produrre anche solari ad esempio molto interessanti cronografi come dicevo field watch e quant'altro cioè una gamma abbastanza ampia di prodotti tendenzialmente economici tendenzialmente a buon mercato ma sempre quella diciamo quella economicità chiamiamola così che da secco cioè orologi sempre performanti sempre comunque con un aspetto tecnico professionale ad esempio o dei dei diver pulsar che sono fatti veramente bene peraltro al titanio con casse in titanio si sono dei solari ma sono veri propri strumenti veri propri diver sono viso certificati e passiamo al brand successivo nasce sempre nel 78 però questo viene creato ad hoc e viene creato ad hoc peraltro solo per il mercato interno e per pochi altri paesi del sud est asiatico nel 78 tra l'altro secco creerà istituirà anche il suo marchio di punta che credo la cresta d'or la cret d'or quindi il 68 è un anno molto importante fa capire che in questo anno secco aveva raggiunto un picco produttivo incredibile enorme quindi istituisce pulser acquista pulser restituisce alba crea credor e all'interno di alba ecco passiamo al secondo brand all'interno di alba secco creerà man mano pian piano tutta una serie di sotto di sottomarchi che poi analizzeremo brevemente perché alba perché il nome alba il nome alba perché era un prodotto rivolto è ancora oggi un prodotto rivolto ai giovani e l'alba è l'inizio del giorno quindi l'inizio della vita in sostanza quindi la giovinezza questo è un po il messaggio che ha voluto dare seiko con questo nome e alba fa ha fatto e fa tutt'oggi orologi per il mercato interno quindi datari in sostanza sono datari canji e con l'alternativo inglese abbiamo serie come la field gear sono roggi field abbiamo la acqua gear che sono diver abbiamo poi all'interno dei sottomarchi come h alba e spoon anche che è molto interessante che hanno design particolari oserei dire le cose futuristici avvenieristici soprattutto gli spoon sono roggi a led peraltro e anche il marchio ex epsilon è un marchio della di alba collegato ad alba e ed è una serie che produce sostanzialmente orologi in titanio con casse in titanio e anche orvitax è un altro marchio alba raro raro da trovare anche sulle sulle piattaforme sono difficili da trovare sono interessanti spesso sono dei cronografi e hanno le forme del dei tuna vagamente possono ricordare vagamente dei tuna quindi degli orologi massicci come design è interessante notare che alba ad esempio produce ancora oggi degli orologi field con una tenuta stagna dichiarata di 20 bar orologi che non hanno la corona vedete ma hanno una corona a pressione ma sono dei 20 bar io li ho li ho testati personalmente li utilizzati un po ovunque e devo dire che non hanno mai mai dato problemi questo per sottolineare che anche una corona a pressione può essere una se costruita bene può essere affidabile passiamo poi all'altro marchio noto un po tutti che è l'horus ecco l'horus nasce nell'82 quindi qualche anno dopo comunque vedete che queste questi marchi sono più o meno appartengono a una stessa epoca appunto è l'epoca di grande sviluppo del quarzo è l'epoca della crisi del quarzo per gli svizzeri e della rivoluzione del quarzo invece per chi lo aveva in sostanza inventato almeno per quanto riguarda gli orologi da polso in questo caso appunto per i giapponesi per seiko per la citizen poi vedremo anche casio questi sono gli attori di questa fase storica dell'orologeria l'horus è un brand concepito per l'export e nasce in europa cioè nasce la prima distribuzione avviene in europa di l'horus doveva in sostanza supportare seiko e pulsar su questo mercato con orologi ancora più economici dei pulsar però comunque sempre tecnicamente validi sostanzialmente il più delle volte orologi field o comunque anche e anche dei degli sport degli sportivi quindi tipo diver ricordo che sia pulsar che alba e anche l'horus producono anche linee femminili quindi avevano orologi sia per uomini e sia per per donne l'horus soprattutto loro soprattutto devo dire passiamo poi ad un altro brand che è la sal la sala era lo sappiamo tutti un brand svizzero che venne a un certo punto acquistato se non vado errato nell 85 87 ma l'oro scritto ecco 85 venne acquistato da seiko in una prima fase la sala mantenne una prima fase dopo l'acquisizione mantenne appunto il nome la sala jean la sala se non vado errato poi a un certo punto comparirà seiko la sala ora la sala sappiamo bene produceva orologi meccanici molto sottili infatti siamo nel periodo in cui il mercato richiede orologi sottili e seiko pensa appunto di introdurre dei prodotti a nome la sala perché già aveva la sala un un nome in questo diciamo particolare ambito produttivo cioè orologi molto sottili però diciamo trasformando la la sala in orologi al quarzo in sostanza si assiste a un a una trasformazione di la sala che da orologi meccanici diventano orologi al quarzo molto però molto sottili quindi con moduli con movimenti calibri al quarzo molto molto sottili infine voglio ricordare ma ne avevamo già parlato in una nostra precedente puntata in un nostro video precedente iema iema che è un brand che fu acquistato da seiko a tutti gli effetti nel 1988 che venne mantenuto sotto leggi da seiko fino al 2005 in sostanza in questa fase iema ha prodotto orologi che pur mantenendo se vogliamo una loro stile tipico della maison iema francese ricordiamolo quindi con un design che era quello degli orologi iema però incassavano moduli o movimenti automatici di seiko di attori seiko attori in questa fase sono anche degli orologi piuttosto ricercati iema ha montato anche 7 a 38 e 7 a 28 credo quindi i noti moduli noti moduli cronografici degli anni 80 dei primi anni 80 di seiko non è più oggi un brand seiko perché nel 2005 seiko lo ha rivenduto se non vada errato ad una società francese che ha quindi si è ripresa il marchio francese la sale invece è un marchio che era stato acquisito e poi credo sia stato sostanzialmente abbandonato come come marchio questo dopo ritengo la fase diciamo diciamo superata la fase dei dei quarti sottili ero di sottile con la sale è quasi diventata diciamo anomala all'interno della produzione e quindi è stato è stato è stato abbandonato detto questo ritengo di aver dato un quadro generale di quelli che sono i brand collegati satelliti seiko e anche brand che oggi non sono più diciamo diciamo controllati da seiko o comunque non sono più utilizzati da seiko appunto la sal e iema e con questo vi saluto e come sempre vi invito ad iscrivervi a questo canale e a disiscrivervi dai canali che fanno tutte le vendite grazie grazie